Lei è tra i residenti che hanno sempre fatto presente i tanti disagi del forboario. Quali sono questi disagi? Chiaramente i parcheggi selvaggi, parcheggiano sui cancelli delle case e quindi è sempre un problema. Anche poi in questi giorni che stanno facendo fortunatamente i lavori, i disagi non sono pochi. Però fortunatamente speriamo presto di avere questi parcheggi, un forboario raccolto, accogliente. Anche perché l'altro giorno dovevo uscire dalla porta di casa, chiaramente la macchina davanti al cancelletto di casa che non si poteva neanche uscire. Quindi è contenta del fatto che finalmente faranno le strisce per terra e la nuova segnaletica? A parte che l'aspetto è più accogliente, più gradevole, però perlomeno di non vedere più questi parcheggi selvaggi. E poi penso che sia giusto anche perché le buche, più che buche direi che ci sono delle vasche. Quindi insomma dai, mi aspetto un bel lavoro. Un'altra cosa importante è che questa strada, così disse stata, crea tantissima polvere. Chiaramente quest'estate abbiamo dovuto tenere le finestre sempre chiuse. Vabbè, avevamo l'aria condizionata, però è anche giusto aprire le finestre. Perché quando passavano le macchine sulla curva praticamente si alzavano una nuvola di polvere. E quindi anche qualcuno sta di panni fuori oppure finestre a perdere è impossibile, veramente impossibile. E quindi poi dopo la gente c'è quella un po' più, diciamo, maldestra che andava forte. Quindi la nuvola era talmente alta che sembrava veramente il fumo di un camino. Parcheggia spesso al foro Boario? Parcheggio spesso perché qua ho il mio dentista, il mio ginecologo, quindi la farmacia di riferimento per chi abito qua dietro. Esco proprio adesso dallo studio, non è facile trovare parcheggio. Come potete vedere, insomma, il parcheggio è tenuto anche in condizioni abbastanza, diciamo, pessime. Perché sono tutte buche, quindi pericolose anche per i ragazzi che parcheggiano in moto, eccetera. Quindi condivido il fatto che il parcheggio deve essere ristrutturato. Un po' di disagi sì, ma sono disagi comunque accettabili. Anche perché si riqualifica la zona è anche bello per la città comunque. Vedere un parcheggio messo in ordine, ordinato, dà piacere a tutti. Ha sentito lamentele da parte dei cittadini o tutti sono contenti perché stanno sistemando l'area? Qualche lamentele c'è per via del parcheggio, che mancano i parcheggi tenendo conto dei lavori che stanno facendo. Ma se no sarebbero tutti contenti, sono contenti. Siamo contenti dei lavori perché sono lavori attesi da molti anni. Speriamo comunque che i lavori procedano spediti secondo le tempistiche indicate. Anche perché spesso accade che non essendoci le strisce per terra, non essendoci la segnaletica, la strada viene proprio bloccata, il passaggio viene chiuso. Sì, effettivamente è una cosa che già accadeva prima per la mancanza della segnaletica orizzontale e anche per la ridotta durata di questa quando veniva rifatta perché purtroppo il manto stradale era in condizioni pessime e quindi per questo siamo contenti comunque anche dei lavori. Purtroppo queste chiusure bloccano comunque anche se i clienti, ma anche noi che usufruiamo del parcheggio per venire a lavorare, a volte ci troviamo bloccati dal parcheggio selvaggio.